Tanta voglia soprattutto perché non segnavo da quasi un anno, quindi sicuramente ho aspettato tanto questi gol, sono contento, però devo continuare ad allenarmi forte come ho fatto fino adesso. I miei compagni mi mettono sempre nelle condizioni per fare il meglio possibile, poi io predeligo l'attacco a profondità perché è una buona velocità e anche il gioco aereo in aria, quindi mi hanno servito benissimo e li ringrazio per questi assist. Ma sicuramente è cambiato l'atteggiamento un po' di tutti da quando è arrivato il mister Maurizzi, è cambiato l'atteggiamento soprattutto anche per gli attaccanti perché lavoriamo di più e siamo più propensi ad attaccare la porta e questo ci facilita molto. È cambiato soprattutto anche il modo di giocare perché abbiamo quella cattiveria che ci permette di fare le cose più in grande. Ma il più difficile? Difficile credo l'ultimo che è stato anche secondo me il più bello perché avevo la porta un po' chiusa però sono riuscito a trovare il diagonale giusto per colpire alle spalle il portiere, quindi credo che sia stato quello il più difficile. Con Ravenna avevo tentato di calciare più di potenza perché comunque avevo fatto una cavalcata di 60 metri quindi dovevo sfogare un po' la mia forza. Capendo anche quello che avevo sbagliato con Ravenna ho detto no, provo a tirare più di precisione che di potenza, infatti ho avuto ragione. Il primo sì, era una palla messa forte in aria da ventola e sono riuscito a prenderla di controbalzo e ero quasi da solo quindi non è stato poi così difficile. Grazie. Grazie.